Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi faremo la nuova La yoga challenge Ragazzi, grazie, grazie, grazie per i 14 iscritti e per le 700 riflessioni della manga routine Noi non ce l'aspettavamo, quindi vabbè E adesso faremo la yoga challenge Anche se l'ho fatto con mio fratello, però il canale ancora non era di noi due Ok, niente, ciao Allora, la prima immagine è questa Senza fargli vedere la sabina, però, perché Ovviamente è quella alla classica, diciamo Cosa c'è? Da quando è sbloccato il telefono Ok Oddio, ma vado nell'armadio No, sono forte Ci sosteniamo tutti e due Vabbè, perché facciamo danza tutti e due Stendi, stendi No, stendi per tu Ah, mi sono parentesi con le gambe Ok, la prima immagine è riuscita A tua colpa Prima colpa La seconda vuole facciamo? Facciamo questa Però solo che io Mi metto così Cioè, è come se vorrei fare la capriola dietro Ah, ok, ok, come l'altra volta Ok Questa, solo che io mi metto così A capriola, eh Andate Si mette così Vai, muoviti Con me stava lei Ah, così Fai adesso Ah 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 ah! Però è riuscita È riuscita È riuscita Sì, poco mi è riuscita Poco mi è riuscita Poco mi è riuscita Io non vado movie Eh, faceci Pre черta che mi fa male Chiudi! Chiudi! Sta venuto il video Non si vedevi addosso a te Nooo! Nooo! Aiuto! Io devo chiudere i visi Dai muoviti Ok! Ok! Sto venuto! No! Perché non le appoggi sono forti Eh! Levati! È un fil d'appoggio Capì? Ah! E' poco! Vedi? Ma è poco! C'è mega! Leggiormente Ok Che mani rega! Non l'ho fatto bene perché non stavo riscaldato ovviamente Ma ne sono tutte e due Non stanno riscaldate E non avevamo voglia di riscaldarci Eh! Perché ci scaldiamo Facciamo questo però l'aeroplano Non è male! L'aeroplano? L'aeroplano! Vai! Da me! Sei là sotto Ma viene? Si vai! Anche si Oddio! Non devi piegare le mani Vai! Oddio! Devi fare bene! Sapete! Non hai paura! E devi fare tutto io! No! Non riesco! Qua! Come non riesci? Vai! Ah! Fa bene! Mi faccio male! Che di solito qua mi prendono! Eh! Ma non riesco qua! Non riesci! Perché? Perché tu devi in avanti così! Ah! Senti qua! Sì! Oddio! Ci siamo riusciti! No! Oddio! Oddio! Ah! 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 E' morta! Ah! Mi ha messo un po' più la doccia! Sono mazzata! Allora! Oh! Che facciamo? Non ne ho idea! Questa vorrei fare! Oddio! Questa! No! Non riesco sta sotto! Non riesco sta sotto! Non riesco sta sotto! Ok! Faccio vedere! Ah! Poi potresti stare anche io sopra! Facciamo a turni! Io lo so tutto sopra! Poi facciamo più meglio sopra! E poi... Come sta rispetto? Però! Mettiamoci! Ciao! Ciao Vivi! Ciao! Mettiamoci! No! No! Così proprio! Perché non riusciamo! No! Non riusciamo! No! Dove venire di qua! Dove mettervi di qua! Ah! Ah! Mettete un po' più di dietro! Vai! Cioè! Ma perché ti metti così? Tieni di stendere! No! Tieni piedi più larghi! E' stare! Abbassato! Abbassato! Gamba! Gamba! Aspetta! Sta con l'appunto qui! Oddio! Ok! Fatto! Ah! Ah! Devi fare forza però! Ah! Devi fare forza! Ah! Vabbè perché io che non lo faccio! Io! Ah! Io so! Facciamo l'ultima posizione! Perché ultima? No! Non di più! Ce ne stanno tante! Sì! Ce ne stanno tante! Non sono difficili! Mi volevo fare l'infinito! Lo volevo fare io! Qual è? Eh! Però è difficile! Questo! Questo! Mi vai! Mi vai! Come facciamo? Tu avanti o dietro? O prenderli di pesce verde? Vai! Metti! Prima tu dietro! Io dietro e avanti! Ok! Vai! Vai! Ma non ci stai dietro! Eh! Io già sto dietro! Vai! Io devo stare proprio di qua! Ma! No! Si tengono le gambe! Si tengono! Tipo una X! Vai! Capito! Vai! Mettiti tu a dietro! Tu come ti metti? Se li metti di qua? Io li metto di qua! Aspetta! Sì! Allora io li metti! Via! No! Il contrario! No! Guarda! Tu ti devi mettere di così! Vedi? Con la testa di là! Così quindi! Prova da me tutto! Vai! Eh! Ma come sta? Aspetta! Metti! Questa sta tesa! Vedi! A terra! Questa sta tesa! Così! Levati! Ah! Ho capito! Adesso! E... Adesso! E... E' un po' si simbile! Però la ce l'abbiamo! No! Mettiamo le gambe così! E alzi! Ok! Ho detto! Aspetta! Però tu... Dammi la gamba! Io tu e io! La gamba! Mi devi dare! E tieni! Aiuto! 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 Ma me l'ho detto... Me l'ho detto qua! Me l'ho detto qua! Dami la mia gamba! Eh! Non mi sciaccare adesso! Dami la gamba! Ecco! Pugliana! Le va faccio! Aia! Sì! Mamma mia! Eh! Non ci lasciamo! No! Ma stiamo facendo il video! No! Ma quando nasce lo fate pure con lui! Sì! Sì! Ma poi l'ho detto che è carino! Sì! Allora io ci facciamo i dei soli piedini! Per la prova! Sì! Poi quando cresce? Ma adesso... C'è un soli piedini! Ma dove savi? Ma dove savi? Eh! Ma nessuno lo sa che cosa! Che cosa? Già! No! Ciao! 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 Sì! Mettiamoci così! Alziamo la gamba! Io montemi la tua e tu! Facilissima! Va! Sì! Eccola! 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 Noi ci dobbiamo andare, se noi non riescono! Monsier! Ti ripeto! Monsier! 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 C'è? Monsier! Muaah! Muaah!